Buonasera, volevo cogliere l'occasione per presentarvi alcuni nuovi prodotti che ho comprato. Niente, siccome comincio dal coltellino, dal braccio che ho, ho comprato questa fascia elastica della Omer, circa 10 euro, non so se già mi ricordo, adesso ho deciso, 9 euro. Niente, la sto provando e l'ho provata in questi giorni, quindi mi risulta molto buona. Prima era in gomma e col tempo praticamente si stava rompendo le piegature, diciamo. Questa sicuramente è molto migliore, molto comoda, è una chiusura a strappo. Come vedete, sta comodamente, perfettamente sul braccio. È un, secondo me, un ottimo prodotto, consigliato a chi vuole, a chi vuole veramente comprare. Il coltellino, naturalmente, rimane quello che era normalmente. Bisogna prendere qualche pezzo dalla vecchia, della vecchia gomma e riportarlo qui sopra, sarebbe questo qua. Questa parte spaccata e serve per fare in modo che la chiusura venga perfetta, venga perfettamente. E basta, questo per quanto riguarda il primo prodotto che ho comprato, sempre della Omer, la fascia elastica per il coltellino da braccio. Secondo prodotto, ho comprato due guanti di gomma, di gomma e tessuto e gomma della Boschia. Circa 9 euro, ottimo prodotto. La misura, la mia è la XL, quindi l'ho presa un po' più, secondo le mani grande, giustamente. E, come vedete, un ottimo prodotto, anche questo. Li trovo molto bene. C'è una buona presa sui pesci, sul fucile, ottimo durante la fase di carica, eccetera, eccetera. Quindi non ha nessun problema. Sono buoni prodotti e li ritengo entrambi ottimi. Poi, per finire, ho comprato la BOA, che la mia vecchia Tecnix, Tecnisub, è andata, aveva i suoi anni giustamente, ha esalato l'ultimo respiro. Niente, naturalmente, essendo in plastica, va una volta che uno se la toglie, tagliata a pezzi e riciclata nella plastica, mi raccomando. E niente, adesso voglio recensire invece la mia BOA Omer che ho comprato di recente. Eccola qua. Una BOA siluro con un doppio, un doppia camera. Praticamente, all'interno c'è la camera che andremo a gonfiare. All'interno c'è la camera che gonfieremo. E quanto riguarda quella esterna, fa da protezione, e quindi è molto robusta. Gli sfregamenti e varie cose che incontra durante una pescata, che puoi incontrare. Niente, ha come caratteristiche questa parte, questa chiusura a velcro naturalmente, e in questa chiusura sono inserite delle piastre in piombo, che praticamente, una volta gonfiata e chiusa, tendono a stabilizzare correttamente la BOA. La stabilizzano tenendo la bandiera in verticale. C'era anche nella vecchia BOA che avevo io la stessa cosa, soltanto che si doveva incamerare l'acqua in un contenitore al di sotto della BOA. Questi invece hanno studiato questo sistema, molto più pratico secondo me, ed è ottima, un'ottima BOA. C'ha degli agganci per un secondo fucile, questi qua, altri agganci per agganciare, che so, il contenitore stagno in cui teniamo la chiave delle macchine, che ne so, vogliamo mettere un altro contenitore stagno in cui praticamente possiamo ottenere un liquido per bere, poi c'è gli attacchi per il retino, uno per collegarlo al fucile con il filo e un altro per il retino, sono due attacchi. costo circa 20 euro, unica, diciamo, questa è correttata dal cordame, c'è 20 metri di corda, una corda elastica, una corda sintetica, ottima, galleggiante, molto sottile. Io sto riutilizzando quella vecchia che avevo, quindi per il momento questa qua viene conservata soltanto. E niente, l'unica, la bandierina è quella vecchia che avevo sulla mia vecchia BOA. Perché ho ottenuto questa? Perché è più grande in confronto a quella che fornisce l'originale della Omer. Infatti la vediamo, questa della Omer è molto più sottile, sì, comunque è visibile, non è che non sia visibile, però sinceramente il confronto lo vedete con me. Quindi, non lo so, l'unica pecca, diciamo, che potrebbe essere una pecca è questa qua. Io, niente, ho riutilizzato la vecchia, l'ho messa sull'asta originale della Omer e niente, la continuo ad utilizzare questa per il momento. Niente, ci sono in due colori, il colore che si usa in Italia sarebbe la banda bianca sul sfondo rosso e poi c'è il colore internazionale, bianco e azzurro. Spero sia stato utile con questa recensione, ci sono BOA molto migliori di questa, molto io per mia esigenza, per quanto riguarda la mia economia, ho comprato questa che comunque è un ottimo prodotto e che costa molto di meno. Niente, è tutto, vi saluto e buon mare a tutti per chi va a mare naturalmente. Spero vi siano piaciuti questi prodotti, come negozio sono andato al Decathlon dove l'ho comprato questa qua, quindi penso che sia conosciuto da tutti, quindi non c'è nessun problema a comprare un prodotto del genere. Per quanto riguarda la fascia elastica, si trova su Amazon circa 12-13 euro, non mi ricordo bene adesso il prezzo, comunque andate su Amazon, cercate, se vi è utile, avete bisogno perché la vecchia magari si è rotta, la trovate tranquillamente. Un saluto a tutti, buon mare, speriamo in giornate ancora buone così da poter divertirci ancora con la nostra passione. Arrivederci!